ciao a tutti io sono francesca e oggi voglio farvi la recensione di queste cuffiette qua della celli sono modello lr prattino f50 insomma un nome strano e adesso giro l'inquadratura vi faccio vedere sono una sorta di arpods nere allora come potete vedere quando aprite la scatola potete vedere il livello di carica della scatola e qua sotto il livello di carica delle cuffie destra e sinistra le cuffie sono fatti in questo modo qua sono hanno un aggancio magnetico quindi si fanno mettere in modo magnetico dentro la loro scatolina delle volte si fa fatica a tirarle fuori ci sono due pin magnetici qua sotto ma adesso parliamo del loro funzionamento a vi vorrevo mi volevo dire anche questo tipo di cavo che insomma va bene per queste cuffie il cavo di tipo c quindi alla ricarica veloce allora queste cuffie si associano allora ho dovuto un attimo stoppare perché si erano collegate al mio ipad comunque adesso vi faccio vedere la procedura quando le tirate fuori vedete che si illuminano subito tutti e due poi dopo se ne illumina solo uno questo vuol dire che sono sincronizzate tra di loro e quindi va bene ok adesso tiro fuori il mio ipod e vi faccio vedere come si chiamano queste cuffie queste cuffie si chiamano full 1 e si sono connesse allora funzionalità di queste cuffie perché hanno i comandi touch quindi un tocco su entrambe e si stoppa la musica il video il film quello che state guardando due tocchi su questo va avanti la musica oppure avanti di 10 secondi il video il film due tocchi su quest'altra cuffia la musica va indietro nel senso la canzone precedente e il film va indietro di 10 secondi stessa cosa il video tra i tocchi si attiva l'assistente vocale e devo dire che è veramente veramente comodo adesso per l'assistente vocale ve lo posso far vedere quanto cattivare internet tra tocchi e si è attivato l'assistente vocale e la stessa cosa vale su questa cuffia sempre tra i tocchi e si attiva l'assistente vocale l'unica differenza sono i due tocchi diciamo che da una parte va avanti e dall'altra indietro per aumentare il volume basta tenere premuto e il volume aumenta qua su questa cuffia invece su questa di qua il volume diminuisce ok queste sono le funzionalità di queste cuffie queste cuffie sono veramente ottime e farò un confronto anche con altre cuffie bluetooth che ovviamente sono ottime in chiamata il microfono è buono e si sente veramente veramente bene la musica alla fine sono fatte per ascoltare musica e quindi il loro dovere lo fanno detto questo io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao